Perché esploriamo Marte? Marte è il quarto pianeta del sistema solare, ed è l'ultimo dei cosiddetti pianeti rocciosi. Si trova a una distanza media di 228 milioni di chilometri dal Sole, e nonostante in alcuni periodi dell'anno si possa vedere nel cielo notturno a occhio nudo. Ha una distanza da noi che può variare dai 54,6 milioni ai 401 milioni di chilometri. Ci sono vari modi di spiegare perché Marte è il pianeta prescelto per le esplorazioni spaziali. Sicuramente alla base troviamo motivazioni economiche e pratiche, ma in fondo, la motivazione vera è una sola. L'essere umano ama soddisfare il desiderio di conoscenza, e in quest'ottica, l'esplorazione spaziale è uno dei migliori modi che abbiamo per farlo. Le missioni spaziali permettono poi di sviluppare tecnologie che, a nostra insaputa, usiamo quotidianamente. Dalle giacche per la montagna e i microchip, dai materassi in memory foam agli occhiali da sole. Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella!